Riparte la carovana di eventi legata a Musicultura, il festival della musica dedicato al cantautorato popolare che raccoglie talenti da ogni parte d'Italia. A dare il là alla rassegna le audizioni live ospitate nella magnifica cornice del teatro La Società Filarmonica di Macerata a partire dal 20 gennaio. Per tre weekend il palco sarà accalcato dai 47 gruppi che hanno già superato la fase delle preselezioni. Chiuderemo appunto la passata edizione con la presentazione del libro dell'album Shusha. Apriamo la nuova con le audizioni live che quest'anno vedono ormai come da diversi anni rappresentanti un po' di tutte le regioni italiane. C'è forse per la prima o seconda volta un consistente gruppo anche di, questo ci fa piacere, di marchigiani. E soprattutto c'è una grande nuova presenza femminile. Ogni weekend pubblico e giurie, sia quella tecnica che quella formata dagli studenti di Macerata e Camerino, ascolteranno i gruppi ed emetteranno il verdetto che permetterà agli artisti di accedere alle semifinali. Vera chicca di questa edizione sarà la presenza dei big, grandi ospiti di fama nazionale che aglieteranno le serate delle audizioni live. Proprio per sfatare questa crisi imperante che attanaglia l'Italia, le Marche, un po' tutti insomma, quest'anno abbiamo rafforzato invece a livello di spettacolarizzazione proprio le audizioni, invitando un ospite per ogni weekend. Quindi avremo un nostro portafortuna famoso che sarà presente in ogni weekend delle audizioni, ci sarà Maurizio Foteraro con Radio 1 Rai che è il partner ufficiale di musicoltura. Le audizioni si sboggeranno al Teatro della Filarmonica, saranno tre weekend e l'ultimo dei quali partirà dal giovedì e finirà la domenica. Grazie a tutti.